Vai inizia a te. Allora ciao ragazzi sono Bistar la mia email paypal è mi raccomando sei la tra Johnny Creek che io gioia mandatemi tutti i soldi. Siamo a Milano ragazzi per se non si è capito The Division The Division. La lingua in mezzo. Poi ci sarà un mega zoom qua quello conosceremo tutti quanti assieme ragazzi siamo a The Division avrete già visto la live. Siamo l'inception che casino sta facendo? Ciao ragazzi oggi martedì mi trovo in una location completamente diversa guardate che figata con tutti i televisori dietro perché in pratica oggi su queste postazioni andremo a giocare a The Division insieme a Gabbo, Johnny guardali là chi neanche salutano. Sopra il piano di sopra perché se vedete ci sono tutti i pavimenti trasparenti guardate che figata c'è anche un ospite veramente molto speciale che poi ragazzi vi farò vedere. Non so sinceramente cos'altro dirvi se non che è bello tornare di nuovo a Milano era un mese che non tornavo qua quindi mi ha fatto veramente piacere incontrare qualcuno di voi anche per il tragitto farsi qualche foto è veramente bello ritornare in questa città anche se non c'è la neve c'è una cappa allucinante c'è un caldo abbominevole rispetto a dove sono io guardate che location è veramente spettacolo ragazzi le location di Ubisoft veramente sono uno spettacolo io come vi ho detto andrò a giocare a The Division un paio d'ore e poi questo video purtroppo lo vedrete il giorno dopo verso sera tardo pomeriggio precisando alle 6 giocheremo anche in diretta quindi ragazzi se vi siete persi questa live male molto male comunque poi vi porterò delle ispezioni di video voi continuate a seguirmi su tutti i social network perché la sarete aggiornati al millesimo di secondo e soprattutto ragazzi è finita la conferenza al piano di sopra ragazzi piccolo ospite salve a tutti te niente non giochi quindi io no non vi gioco ma non oggi oggi lascio il campo a loro che sono va a comandare ragazzi vado a comandare al buffet tipo vengo anch'io dopo stiamo per iniziare abbiamo già tutti gli archetti professionali ragazzi lui ci abbandona no ma io rimango qua però mi sto dietro lì c'è anche il pane vuole un braccio più lungo no ma io non ci sono no ma io non ho adesso butto la casa e butto la place tutto butto via tutto ragazzi ora li pronti a instagrammare snapchat e roba ma sta registrando? si fine video l'evento è finito ragazzi è stato uno spettacolo con jx vi metterò delle foto perché riprendere e fare ragazzi era un casino assurdo capite? quindi l'evento è andato bene spero che il video vi sia piaciuto The Division ci saranno tantissimi gameplay ragazzi abominevoli magari anche con questa squadra qui guarda già che c'ho l'alberre Johnny muore sempre ragazzi il gameplay lo deve mettere c'è Bistan che circolata sempre con il cerchio rosso perché muore ragazzi puoi vedere tutti nei gameplay c'è Gabbo e Rovazzi dall'altra parte Rovazzi sta comandando il mondo quindi ragazzi di qua la Bistale è tutto noi ci vediamo al prossimo video Ciao